La chirurgia robotica e la chirurgia a distanza, quindi 5G, sta sicuramente facendo passi avanti e passi da gigante. Oggigiorno la robotica è una realtà, non è il futuro, ma è proprio calata ai giorni odierni. La telemedicina a distanza, il telementoring e la possibilità di effettuare interventi a distanza sono tecnologie su quale si sta studiando. Sicuramente queste nuove tecnologie hanno degli impatti importanti, ogni nuova tecnologia va calata nel sistema sanitario in cui si vive e deve subire un processo di health technology assessment per capire se poi tutte queste nuove tecnologie hanno un effettivo vantaggio per l'utente finale che è il bene del paziente e la cura migliore che possiamo offrire ai nostri assistiti. A che punto siamo con la chirurgia robotica in provincia di Barenza? La Regione Lombardia sta facendo un grosso sforzo per un upgrade robotico di tutte le province della Regione Lombardia e di questa cosa dobbiamo ringraziarla perché attualmente la chirurgia robotica è il goal standard per alcune patologie specialmente urologiche, ma non solo e quindi confidiamo nell'arrivo a breve di un sistema robotico per poter offrire questa tecnologia ai pazienti della nostra provincia.